La Regione smentisce la notizia della nomina di Rinaldo Tordera a manager della ASL numero 1 Avezzano sul Monal Aquila, apparsa sulla stampa di oggi. La decisione del nuovo direttore generale della ASL provinciale dell'Aquila non è stata presa e nessuna riunione di giunta è stata fatta in tal senso. Si esprime così il vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli sulla questione della nomina del nuovo manager dell'azienda sanitaria locale numero 1. La poltrona, ricordiamo, è vacante dopo le dimissioni di Giancarlo Silveri annunciate all'inizio dello scorso mese di dicembre ed effettive da fine anno. La giunta regionale è chiamata a decidere entro fine febbraio. L'assessore della sanità Silvio Paolucci ha comunque annunciato la nomina entro questa settimana. Ma il tutto potrebbe slittare a martedì prossimo, considerando che il presidente Luciano D'Alfonso, fino ad oggi pomeriggio, non sarà in Abruzzo. È in atto una discussione, ma non abbiamo deciso nulla. Stiamo valutando vari tecnici, ha detto Lolli. Non è stata convocata la giunta, che si farà martedì prossimo, a margine del consiglio. Tra i nomi papabili ricorrenti c'è quello dell'ex direttore generale della Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila, Rinaldo Tordera, presidente attuale dell'azienda di servizi municipalizzata SM del comune dell'Aquila e amministratore delegato della società regionale Sviluppo Italia, Abruzzo. Tordera non figura nell'albo degli idoni in Abruzzo, ma in quello della Lombardia, dove però non ha superato la seconda prova per entrare nella cosiddetta short list di 200 persone, anche se rientrerebbe comunque tra gli 800 idoni. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Mauro dell'azzo appetito. Magari ancora, con la testa, la vittoria nel posticipo contro il Pontedera. Gli uomini di Perrone hanno disperato bisogno di punti. Il meno 14 in classifica. Si sente come i rossoblu sono terzultimi e non possono allontanarsi ulteriormente dalla zona salvezza. Dalla parte degli Aquilani c'è l'ottimo bottino interno con otto risultati utili consecutivi da portare a 9 contro la SPAL. Squadra solida, organizzata e con numeri da fare spavento. In trasferta la truppa di Leonardo Semplici non perde da quasi quattro mesi. Era il 31 ottobre, maceratese Spal 1-0, gol di Giordano Fioretti. All'andata il 4 ottobre i Biancazzurri si imposero sui Rosso-Blu 2-1, grazie alle reti di Finotto e Cellini, due dei top player della Spal. A nulla bastò l'acuto di Salvatore Sandomenico, che sabato contro l'Ancona ha timbrato il nono sigillo in campionato, eguagliando lo scor della scorsa stagione. L'Aquila si affida proprio al Folletto di Secondigliano, che contro la Spal sogna di tornare in doppia cifra nei professionisti. L'ultima volta successe tre annate fa, ai tempi della sua militanza nell'Arzanese. Sul fronte formazione, la tecnico aquilano Carlo Perrone dovrebbe confermare il 3-5-2, mettendosi di fatto a specchio rispetto agli avversari. In difesa, il blocco a tre sarà composto da Pesoli, tra l'altro ancora febbricitante, Cosentini e Piva, mentre a centrocampo potrebbe toccare dal primo minuto a Bulevardi, con De Francesco e Manuel Mancini nel mezzo, così da dirottare Triarico a destra e confermare Ligorio a sinistra. In attacco, al fianco dell'insostituibile San Domenico, solito ballottaggio per la maglia numero 9 tra De Sousa e Perna. Nella spalla di Semplici mancherà il centrocampista Luca Mora, squalificato per somma di ammunizioni. È sempre più lontana l'ipotesi di vendita di quote dell'Aquila Calcio. Si tratterebbe della terza volta dopo le trattative arenate con Deodati e Vecchio nel corso degli anni passati. L'ennesima voce è rimasta tale per Giunta in un periodo delicato come quello che sta attraversando la compagine Rosso-Blu, tra la lotta alla salvezza e il processo sportivo per il caso Calcio Scommesse. Questa volta al cospetto del club Aquilano si era presentato un gruppo di imprenditori, tra cui Enrico Folgori, ex vicepresidente del Martina Franca, e Massimo Macchi, che in un primo momento si pensava potesse agire per conto della Graziella Group, azienda orafa toscana per la quale è poi arrivata nelle scorse ore la secca smentita del presidente Gianni Gori, che ha dichiarato a chiare lettere di non voler investire nel calcio. Ad ogni modo, nella giornata di mercoledì, l'Aquila aveva offerto il 12,5% delle quote, per una cifra pari a 100.000 euro. Da due giorni però i potenziali acquirenti sono spariti. In realtà erano intenzionati ad acquistare almeno la metà delle quote, ma tramite un acconto ed un pagamento dilazionato. I dirigenti Aquilani si sono posti chiedendo un ingresso graduale per valutare le loro reali intenzioni e disponibilità economiche. A questo punto però, senza più alcun contatto tra le parti, il club Rosso Blu sta raccogliendo autonomamente tra i soci, anche se a fatica, i 400.000 euro necessari per pagare gli stipendi dei giocatori entro il 16 febbraio. La novità sostanziale è che dietro le quinte ad aiutare il presidente Corrado Chiodi e il suo vice Massimo Mancini ci sia lo sponsor Eliseo Iannini. L'imprenditore aquilano, già presidente dell'Aquila nei primi anni 2000, metterà nelle casse Rosso Blu circa il 25% della somma necessaria, tradotto 60.000 euro, proprio come Chiodi e Mancini. Un ulteriore passo in avanti verso il suo ritorno effettivo in società? Presto per dirlo, ma i presupposti ci sono tutti. Dopo la convocazione con la Nazionale Italiana di Rugby a 13, il trequarti centro della Gran Sasso Rugby Alessio Guardiano ha collezionato un altro grande successo grazie alla chiamata dell'allenatore della Nazionale di Rugby a 7, Andy Wilk. Guardiano, classe 1993, ha raggiunto Parma con gli altri convocati, con i quali ha sostenuto due allenamenti giornalieri, fino a quando il commissario tecnico li ha lasciati liberi di rientrare nei rispettivi club. È stata un'esperienza formidabile, ha commentato il giovane Frascatano, frutto di un lavoro individuale, costante e degli ottimi risultati raggiunti con la Gran Sasso Rugby. Ho dato il massimo, ha precisato l'Azzurro, perché credo che sia giunta l'ora di dimostrare il nostro valore a partire da giugno nel prossimo Grand Prix di Mosca. Alla domanda se sogna le Olimpiadi, Guardiano ha risposto pensando al presente. Devo lavorare ancora molto, ha scherzato, per il momento mi godo l'occasione e spero di essere riconfermato tenendo sempre in mente che l'Olimpiade è il sogno più grande di qualsiasi atleta. Domenica prossima la Gran Sasso Rugby rispetterà un turno di stop per il 6 nazioni. Il prossimo appuntamento sarà per domenica 21 febbraio sul campo in casa di Villa Sant'Angelo, dove i grigiorossi sfideranno la squadra di Brescia.